Buonissimi amici, buonissime amiche, so che apprezzate molto questi video che io chiamo video sociali, cioè questi ragionamenti fatti insieme sulle varie problematiche della vita, di come noi la intendiamo, dei nostri problemi di ogni giorno. Io non ho la pretesa di insegnare nulla, posso solo portare quelle che sono le mie sensazioni, le mie esperienze. Oggi potrei parlare del tempo che passa, della vecchiaia, questa parola brutta da dire, la vecchiaia, degli anni che passi, l'invecchiamento. È qualcosa di inevitabile, no? Forse è una delle poche cose inevitabili della vita, però ci sono diversi modi di invecchiare. Diversi modi e abbiamo il dovere morale, nei nostri confronti, ma anche nei confronti degli altri, di pensare a vivere ogni giorno come se questa cosiddetta vecchiaia non esistesse. Poi quando vedrà il giorno, insomma, in cui saremo troppo vecchi, sarà qualcosa di inevitabile. Ma noi non possiamo vivere nella proiezione di una vecchiaia pensando al fatto di quando non potremo più fare certe cose. Dobbiamo farle finché il Signore ce lo permetterà. L'altro giorno, io c'ho una madre, una mamma molto, molto anziana. Ve lo dissi già in un altro video. E ogni volta che vado da lei, una mamma è 90enne con varie problematiche, e dispiace ecco vedere questa donna così attiva che adesso non può fare più quello che faceva, anche solo fino a dieci anni fa. Però abbiamo il dovere di stare anche vicino a queste persone che hanno tanto dato nella vita, no? Ai figli, agli altri. E per la seconda volta, da quando io la vado a trovare, insomma, ogni settimana, perché sta a casa di una mia sorella, e mi ha detto di nuovo, per l'ennesima volta, mi ha detto portami al mare, potrei vedere il mare. Ora, la posteremo al mare, anche se è in condizione ovviamente di non diambulare, sapete? Però ci siamo mossi per prendere questi veicoli attrezzati, con le persone magari sedute in queste sedie, sa, alle hotelle che vengono introdotte in questi pulmini, fino a... Insomma, ci siamo attrezzati perché è giusto che queste persone anziane, molto anziane, possano avere il loro momento di soddisfazione. Una donna come mia madre, che è vissuta al mare, il mare è la libertà, il mare è l'infinito, il mare è un fascino. Mia mamma è originaria di Amalfi, quindi antica repubblica marinara, quindi mare, sole, sempre è stata questa la sua vita in gioventù, la posteremo al mare. E a noi ci ha insegnato soprattutto la positività. La positività, cioè il fatto di avere sempre una speranza, di avere sempre un desiderio. E io credo che, arrivato ad una certa età, noi abbiamo un grosso vantaggio innanzitutto, quello di non scendere, non dover scendere a tanti compromessi, come quando si è giovane, si è ragazzi, per cui si dice no, non facciamo questo perché altrimenti poi quello dice, quell'altro dice. Di non avere tanti compromessi da dover fare. Dobbiamo stare attenti a non lasciarci prendere dalla negatività. Dobbiamo imparare ad usare le parole, come vi ho detto già le altre volte, le parole buone, le parole positive. Se noi diciamo sole, mare, gioia, felicità, contentezza, su, bene, buono, gentile, armonioso, vivace, solare, sono parole positive. Queste parole, contrariamente alle altre, no? Giù, male, ormai. Contrariamente a queste parole, le parole positive, innescano nella mente una delle sinapsi che fanno della nostra vita una qualità diversa. Questo lo dobbiamo, dobbiamo essere consapevoli di questa cosa qui. Come noi parliamo, così è la qualità della nostra vita. Le persone che si sono fatte travolgere, diciamo, dalla depressione, dalla tristezza, usano parole di depressione e parole di tristezza. Io ne ho conosciute e mi dispiace per loro. Mi dispiace per loro. E più di dispiacermi per loro non si può fare. Perché, vedete, noi abbiamo il dovere di aiutare anche le persone che sono in difficoltà, magari amici che conosciamo con dei buoni consigli, ma il nostro interesse, soprattutto, è quello di circondarci di persone positive. Bisogna allontanare, invece, le persone che ci danno negatività. La negatività non posta mai cose buone nella vita. Quindi, al di là di tutte le malattie, di tutte le difficoltà, noi dobbiamo conservare un interesse, degli interessi alla vita. E oggi c'è un aspetto fondamentale rispetto, non so, a 50, 100 anni fa, che la mente può essere più allenata perché abbiamo la tecnologia che ci aiuta. È innegabile che noi critichiamo sempre questa tecnologia, magari troppo invasiva, no, nella nostra vita quotidiana. Però è innegabile che oggi pure le persone che vivono sole, le persone anziane, però hanno la mente attiva perché sanno usare magari il computer, guardano la tv, fanno delle ricerche, che attivano la mente perché il cervello è il solo organo che praticamente non invecchia o invecchia molto lentamente. Ci sono grandi personaggi, grandi scienziati, grandi attori che fino a 100 anni sono stati sulla scena, hanno avuto delle grosse attività. Quindi mantenere la mente allenata è qualcosa di importante perché tutto nasce dalla mente. Quindi anche se il nostro fisico non è più quello di una volta, noi abbiamo l'obbligo di volerci bene sia dal punto di vista fisico, perché dobbiamo usare tutte quelle accostenze necessarie, ma dal punto di vista mentale soprattutto. Poi dal punto di vista relazionale, ecco, cerchiamo di non isolarci troppo. È vero che non c'è bisogno di frequentare tante persone perché poi non è più il caso, ma di non isolarci. C'è gente che ha degli hobby, piace andare a ballare, fa balli di gruppo, bellissimi, insomma. Magari va bene, ma anche se uno non è portato per il ballo, però ci sono vari interessi, la musica, il cinema, delle cose. Quindi avere delle amicizie. Magari anche due o tre amici, come diceva Seneca, no? Nelle sue lettere all'Ucilio, un suo discepolo, gli augurava in occasione di un suo compleanno, diceva io ti auguro che tu nella vita possa avere due o tre amici. E due o tre amici è già tanto. Quindi avere una relazione con persone con le quali fare qualcosa, qualcosa di bello. Quindi l'importanza anche dell'amore, dell'amore, dell'amore inteso in senso generale, no? Amore per le cose, amore per la vita, amore per le passeggiate, amore per il mare. Ecco, come mia mamma c'è l'amore per il mare, per vedere il mare. Il mare è sinonimo di libertà. Chi piace la montagna, chi piace la neve. Avere amore. Ecco, avere amore. E amore in generale, in generale, per i nipoti, per i figli, per tutti. Ecco, avere questa positività. Poi, per i più fortunati c'è anche l'amore corrisposto per un partner. Ecco. E su questo vorrei spendere una parola. L'amore relazionale tra due persone è una magia. È qualcosa che noi non possiamo costruire in laboratorio. A volte ci sono persone che si incontrano a 50, 60, 70 e scocca magari una scintilla. E l'amore è una magia. Quindi io sono un po' contro a quelli che dicono in relazione a persone rimanze sole o perché divorziato o perché vedovi, vedovi. Insomma, di dire no, tu devi trovare una persona insieme perché poi con l'età si rimane soli. Non è così. Soli si rimane se si vuole rimanere soli. Perché chi ha una vita di relazione, ha una vita di relazione e deve essere così. poi, poi non è che ci si accontenta perché si deve stare con qualcuno. No. Non ci si deve mai accontentare. Ecco. Se c'è una passione, un amore, si è persone fortunate di avere accanto a qualsiasi età una persona che ti vuole bene. E al di là del rapporto fisico, al di là della fisicità, c'è comunque il rapporto d'amore. Quindi sono fortunati costoro. Ma anche se questo amore non c'è, c'è un amore più generale, no? Per gli altri, per le attività, per quello che si fa, per la vita, per il sole. Vedete, oggi mi sono affacciato anche, io ho la fortuna, certamente ho la fortuna di abitare in una zona fantastica, invidiata insomma da tutti. Però quando vedi il mare, il sole, cosa c'è di più bello? Gli amici. E davvero un po' più di tempo per sé. Vedete, io ho sempre detto anche che sembra una cosa brutta quella che vi dico, ma non lo è. Bisogna imparare a essere un poco egoisti. Un po', non troppo, perché l'egoismo è come quando uno beve il caffè. Una tazzina è ottimo, tante tazzine fanno male. Un po' egoisti cosa significa? Significa pensare al proprio bene, al proprio benessere, perché se non si sta bene noi, non possiamo far star bene gli altri. Questo è importante, stare bene noi per poter essere anche utile agli altri. C'è la cosiddetta sindrome della crocerossina che alcune, alcune, alcune c'hanno, per cui si dice no, io non c'ho tempo di niente, non posso fare niente perché devo accudire qui, mia mamma, mia zia, mia nipote, mia cugina, o io qua e vado a fare il volontariato così mi trascuro perché... no, non è giusto così. Bisogna fare bene, bisogna stare con gli anziani, i nipoti, i figli e tutto, ma nel benessere bisogna prima pensare a se stessi. Vedete, un'altra riflessione è che io vedo come oggi, grazie a Dio, si invecchi meglio, si invecchi meglio perché le persone si prendono più cura di se stessi. Io ricordo quando avevo 10-15 anni e vedevo una persona di 60 anni e diceva, ah ma, cioè, consideravo un vecchio decrepito. Adesso non è così, grazie a Dio, perché? Perché ci sono uomini, ma soprattutto donne di 60, 65, 70 anni, ma belle, belle, bellissime donne, perché oggi ci si cura. Quando ci si cura non è solo un fatto estetico, la ruga, mettersi il sossetto, oppure le creme, le cose. No, è una forma di rispetto per se stessi. Perché piacersi aiuta a piacere. Ecco. C'è un altro modo di vivere. Una volta, tanti anni fa, ci stavano tante belle ragazze che magari si sposavano, pensavano a fare 4, 5, 6, 7 figli, nel giro di 3, 4, 5 anni si sconvolgevano anche nel loro rapporto ormonale. Insomma, diventavano ragazze di 40-50 kg, diventavano 150 kg, perché non avevano nemmeno il rispetto di se stessi, perché la loro vita era magari delegata alla famiglia, ai figli, e quindi c'era un sacrificio da fare, c'era una immolarsi, perché bisognava essere la mamma, quella dei fornelli. Adesso c'è altro. Adesso c'è altro nella vita. Vedete, bisogna volersi bene, ed è giusto che sia così. E io sono anche contro quello che oggi si dice, c'è la crisi della famiglia, del matrimonio. Ma è un falso problema, anche questo, tutto sommato, perché non è che oggi c'è la crisi dei matrimoni. C'è la crisi dei matrimoni, se vogliamo dirla, perché c'è la contezza da parte dell'uomo e della donna di essere persone con gli stessi diritti, con gli stessi doveri. E quindi si viene magari a uno scontro tante volte. Però cento anni fa, ma anche cinquanta anni fa, non era così, perché in molte parti d'Italia, anche, e del mondo, in alcune zone, la donna non ha alcun diritto. Cioè, fino a un po' di tempo fa, nell'ambito del matrimonio, non è che il matrimonio durava tutta la vita perché andava bene. No, perché la donna era relegata al ruolo di moglie gescia, insomma, servitrice, che non aveva alcun diritto, che stava in casa, che puliva, rassettava, cucinava senza dover dire niente. Quindi era il dapposto sbagliato uomo-donna che andava sostanzialmente a dire, ah, cinquanta anni di matrimonio, sessanta anni di matrimonio. Perché? Passate su la figura dell'uomo dominante e della donna sottomessa. Oggi, grazie a Dio, per la stragrande maggioranza non è così, anche se ci sono delle sacche, purtroppo, ancora in questa situazione, però sostanzialmente si va verso questo tipo di evoluzione per cui l'unione fra due persone è un'unione di scelta. Quindi, quando si arriva ad un certo punto nella vita e si ha a fianco un compagno o una compagna che ti vuole bene, si è uomini fortunati. Però, qualsiasi, vedete, qualsiasi situazione voi viviate, bisogna reagire. C'ho degli amici che ogni tanto mi fanno dei vocali, ad esempio un amico si chiama Francesco, non voglio dire, insomma, di dove, che ogni tanto si sfoga per problemi di depressione perché ha perso la moglie, insomma, a me mi dispiace pure, però dobbiamo cercare di non mettere la nostra vita in mano agli altri, cioè di non pensare che se succede una disgrazia, per carità, oppure un problema basta andare dal medico che ti dà le compresse, perché poi con quelle compresse tu combatti una forma depressiva, no? Perché a volte si rimane prigionieri di queste compresse che ti fanno andare in uno stato di confusione mentale. Penso che la migliore compressa, al di là, ovviamente dei casi, dei casi gravi, ma nei casi lievi la migliore compressa è quella della distrazione, profittando anche della bella stagione, quella di frequentare qualcuno, di frequentare qualche attività, di avere degli interessi. È così che si invecchia bene, è così che un giorno, un giorno noi potremmo dire siamo felici, siamo felici. La felicità è l'unica, è l'unico scopo della nostra vita. specie quando andiamo in pensione, che adesso sono pure io, abbiamo l'unico scopo della felicità e siamo più liberi. Paradossalmente la libertà è qualcosa di bellissimo. Oggi non abbiamo più, diciamo, quei compromessi da dover fare per la carriera, chissà. siamo più liberi. Che bella cosa questa. Quindi cerchiamo, attraverso le parole, attraverso i compostamenti, attraverso il pensare a noi stessi, la cura di noi stessi, del nostro corpo, dei nostri capelli. In questo caso mi devo pettinare meglio. nostri capelli. Tutto. Cerchiamo di volerci bene. E un'altra cosa, e poi concludo, è il gioco. Quando ci si prende troppo sul serio, vuol dire che non si sta bene. Vedo persone che non sorridono mai. Chi sorride, chi ride, chi è ironico, chi fa le battute. È una persona che sta bene. Chi ha perso il senso dell'ironia, sta male. Chi non scherza, soprattutto su se stesso, ha perso il gusto della vita. Ecco, il di tornare bambini, questo è importante. Se noi osserviamo dei bambini di un anno, due anni che giocano fra di loro, sono l'esempio della vita. Capaci di ridere, di piangere, in un momento di ridere ancora, di piangere ancora, di ridere ancora. Perché sono spontanei. Noi dobbiamo ritrovare la nostra spontaneità. Ecco. E quindi invecchiare, come si dice, come se la vecchiaia non esistesse. Perché più ci vogliamo bene e più allontaniamo questo stato depressivo che poi induce anche le malattie. Perché sappiate che il 90% delle malattie sono sempre di origine psicosomatica, che poi si aggravano, ma l'origine è quasi sempre psicosomatica, cioè derivante da uno stato di depressione che abbassa le difese immunitarie. Se noi siamo tristi, le nostre difese immunitarie si abbassano. Effettivamente è così. Quei dispiaceri sui quali noi riflettiamo abbassano le difese immunitarie. Quindi non pensiamo più ai tosti subiti, all'amico che ci ha tradito, o anche il compagno, la compagna, la persona che non ci vuole vedere. Quindi eliminiamo queste persone, mettiamole da parte, pensiamo al bello, al positivo, al sole, alla montagna, all'acqua, al mare, pensiamo positivo e selezioniamo gli amici, anche uno solo, con il quale condividere delle esperienze. E per ultimo mi sono segnalato queste due grandi frasi, molto importanti. Una di Oliver Holmes che dice La gente non smette di giocare perché diventa vecchia, ma si diventa vecchi perché si smette di giocare. Appunto. E poi c'è un vecchio proverbio che dice Il giovane cose veloce, ma l'anziano conosce la strada. Quindi è anche l'esperienza che ci deve aiutare. Quindi questa è la mia riflessione di oggi, sul fatto di non lasciarci abbattere dal tempo che passa, ma pensare che invece abbiamo la grossa fortuna di non avere compromessi e di poter gestire la nostra vita. Vogliamoci bene. Buona domenica. E cerchiamo anche di condividere queste parole, queste parole che sono parole essenziali per la qualità della nostra vita. Un abbraccio a tutti quanti voi. Grazie. Grazie.